Buongiorno a tutti, sono il professor Marco Mezzalama, professore merito di Sistemi di Elaborazione al Politecnico di Torino e membro nazionale di questa Accademia, di cui mi onoro in questo momento di essere anche Vicepresidente. In questa conversazione di oggi vi parlerò delle tecnologie digitali, di quelle tecnologie che ormai condizionano tutte le attività umane, da quelle personali a quelle professionali. Parlerò di super computer, di internet delle cose, di 5G, di big data, di intelligenza artificiale, insomma di tutte quelle tecnologie che stanno cambiando in modo radicale il mondo. Però prima di analizzare gli aspetti hardware, gli aspetti software, mi preme fare alcune considerazioni di carattere generale sull'evoluzione e sulle caratteristiche di queste tecnologie. Uno degli aspetti molto rilevanti è legato al fatto che negli ultimi trent'anni queste tecnologie hanno avuto delle accelerazioni molto significative. In particolare, se pensiamo, come vedete, la capacità di elaborazione dei computer e dei processori è cresciuta di un milione di volte, ma peraltro il costo per unità di calcolo è diminuito persino a volte di un milione. Quindi questo spiega perché siano così pervasive, perché al crescere delle prestazioni il costo diminuisce e sono alla portata di tutti. Un altro elemento di riflessione è l'accelerazione temporale. Cosa vuol dire? Quanto ci impiegano a prendere piede, a diffondersi? Se noi consideriamo anche solo le tecnologie, le tecnologie di tipo elettrico, elettronico, nell'ultimo secolo, vediamo che la radio ha impiegato a raggiungere 50 milioni di utenti 38 anni, la televisione 13, internet 4 anni, l'iPod 3 anni e Facebook 2 anni. Una accelerazione incredibile che dimostra come in effetti oramai queste tecnologie sono alla portata di tutto il mondo. Ma vediamo di analizzare il progresso tecnologico in termini quantitativi. Mi permetto di fare queste due comparazioni. Se ragioniamo sul mondo della fisica delle macchine, una delle caratteristiche di accelerazione è la velocità, la velocità dei corpi. Bene, se pensiamo che un uomo quando corre ha una velocità di 15 km all'ora, a cavallo 45 più o meno, un'automobile 130, un'aereo 800 km all'ora e uno shuttle 30.000 km all'ora. Il che vuol dire che c'è stato un fattore moltiplicativo, un progresso nella velocità di un fattore 2.000. E 2.000 è già molto. Se però noi consideriamo il mondo dei bit e consideriamo il mondo del calcolo, del fare il calcolo, noi vediamo che questa accelerazione è veramente spaventosa. Perché noi per fare una moltiplicazione ci impieghiamo più di un secondo. Pensate solo quanto ci impiegate a fare 315 per, che ne so, 517. Allora possiamo dire che la nostra capacità è una capacità che è circa 0,02 moltiplicazioni al secondo. Poi è venuto Gauss con i logaritmi, si riesce con certe tecniche ad andare un po' più veloci, poi sono arrivate la divisumma, cioè le prime calcolatrici elettriche, i PC degli anni 80 che facevano 100.000 moltiplicazioni al secondo e i PC degli anni 2000 che fanno un miliardo di moltiplicazione al secondo. Quindi un'accelerazione, un fattore moltiplicativo che è all'ordine 10 alla 9, è all'ordine dei miliardi, superiore ai miliardi. Bene, fatte queste considerazioni, dobbiamo dire che come il mondo fisico ha una sua legge fondamentale, che è fondamentalmente la legge di Newton, della gravitazione universale, così il mondo digitale è basato su una legge fondamentale. La legge di Moore. Moore, uno scienziato, un ingegnere, disse e valutò che la complessità di un microcircuito che è misurata mediante il numero dei transistor per chip, bene raddoppia ogni 18 mesi. Quindi ogni 18 mesi noi nella stessa area riusciamo a mettere il doppio del numero dei transistor. E quindi la capacità computazionale cresce. Vedete a sinistra quel diagramma che indica le tipologie, per diverse tipologie di chip, memorie e microprocessori, la crescita. Ma ancora più rilevante mi sembra quel disegno, quella fotografia che c'è sulla vostra destra, in cui, come vedete, un piccolo dispositivo che peraltro nel 2005 conteneva 100 mega, quindi 128 milioni di informazioni di byte, nel 2014 lo stesso dispositivo ne conteneva 128 miliardi, un fattore di accelerazione molto significativo. E questo deriva, come ho detto, dalla capacità di integrare in modo sempre maggiore, in modo sempre più piccolino, il transistor digitale. Ma cos'è il transistor digitale? Il transistor digitale è sostanzialmente un interruttore, un interruttore elettronico che ha, come tutti gli interruttori, due stati, aperto-chiuso, che potremmo dire 0-1, e da qui appunto il perché i computer lavorano in logica binaria. Fisicamente che cos'è? Fisicamente è un pezzo di silicio, ecco perché si chiama la società del silicio, la nostra società digitale. Un pezzo di silicio che è opportunamente arricchito da atomi di boro e di fosforo in generale e che in poche decine di anni è passato da una dimensione pare ad un millesimo di millimetro ad un milionesimo di millimetro. Questa capacità ha permesso di fare circuiti sempre più complessi nello stesso spazio e uno dei circuiti fondamentali è il processore. Il processore è la parte più rilevante di un computer, è quella che esegue il software, che esegue le istruzioni, che effettua le operazioni matematiche. Oggi il processore è realizzato su un singolo chip, su una singola piastrina, grossa come la mia unghia del pollice, e per questo è chiamato microprocessore. In effetti questa incredibile crescita prestazionale la possiamo vedere in questa slide in cui io confronto due famosi dispositivi, due famosi microprocessori. L'Intel 8086 negli anni 80 del passato secolo, il quale è stato il processore fondamentale per la diffusione dei PC, diciamo che è l'elemento che ha permesso la diffusione di massa del personal computer. Invece un processore del giorno d'oggi sempre dell'Intel, l'i7, e vedete che più o meno sono uguali, guardate, la dimensione che vedete lì è la dimensione reale. Il primo ha 50.000 transistor e il secondo ha 700 milioni di transistor. Il primo lavora a 8 MHz, quindi ha una frequenza sostanzialmente di lavorazione di esecuzione delle istruzioni di 8 MHz, l'altro è di 3 Giga, quindi passiamo dai milioni ai miliardi di Hz. Il primo ha una potenza di un milione di istruzioni al secondo, che è già tanto, ha 300.000 milioni di istruzioni al secondo. Allora questa fondamentale potenza è una cosa sconvolgente ed è, diciamo, il compito fondamentale dell'industria dei semiconduttori, perché costruire chip vuol dire costruire mattoni fondamentali per realizzare i computer. Mi permetto peraltro di fare in questo momento una considerazione che ha carattere forse più politico o economico. Ho riportato in questo lucido i 15 produttori mondiali di semiconduttori. Ovviamente il più importante è l'Intel, però quello che mi preme sottolineare è che tra questi 15 ce ne sono soltanto due europei, che sono agli ultimi posti. E questo è una grossa penalizzazione per l'Europa, perché l'industria dei semiconduttori è l'industria basilare della società digitale. E quindi un po' di soffranismo europeo su queste tecnologie sarebbe assolutamente necessario. Ecco, vorrei adesso, per non parlare solo, farvi vedere un po' di oggetti. Cosa sono questi microprocessori? Come sono fatti? Quanto sono grandi? Qui vedete due microprocessori della famiglia Intel. Uno, quello più grande, un Pentium Pro del 1995, e quell'altro più piccolino, invece degli anni 2000, un i3. E vedete come, nonostante io vi racconti che le prestazioni tra uno, tra quello grosso e quello piccolo sono molto vantaggiose per quello piccolo, che è circa 100-1000 volte più potente, la capacità tecnologica di fare i transistor piccoli si vede anche in questa visione. Più piccoli sono e meno consumano. E questo è un elemento fondamentale. Abbiamo detto che i processori consumano. E in effetti molti processori, soprattutto i più potenti, sono carrozzati in modo tale da dissipare il calore. Quindi vedete un esempio. Vedete il microprocessore e poi, a lato, quello che viene coperto, con cui viene coperto il microprocessore, in modo tale che le lamelle dissipano calore. Tenete presente che un processore di questo genere consuma più o meno 100 Watt, quindi come una lampadina molto illuminante. Qui vedete la scheda di un piccolo server. La cosa interessante da notare è che il microprocessore è nascosto sotto una ventola che, vedete, gira. E questo è fatto perché soprattutto i microprocessori dei computer consumano molta potenza. Oggi i microprocessori sono il cuore di molti apparati intelligenti. Anzi, noi chiamiamo gli oggetti intelligenti proprio perché a bordo degli stessi c'è un microprocessore. Per esempio, nel nostro cellulare abbiamo due, tre microprocessori, così come una smart TV. Negli elettronomestici ci sono oramai dei microprocessori. In tutti gli oggetti, in molti oggetti, nei giochi, per bambini, ci sono dei microprocessori. Non ci sarebbero i droni senza microprocessori. Proprio perché devono stare dentro degli oggetti, devono essere piccoli, veloci e freddi. Perché dico freddi? Perché devono consumare poco. Noi sappiamo bene la storia delle batterie dei cellulari. Ebbene, una delle grandi sfide oggi è fare dei microprocessori che consumano poco perché, soprattutto se sono in oggetti in mobilità, devono consumare poca batteria. La possibilità di dotare tutti gli oggetti di un piccolo computer connesso in rete ha fatto nascere quella che si chiama l'Internet delle cose, o l'IoT, come viene normalmente anche indicata. Internet è nato per collegare le persone. Ma adesso, come dicevamo, gli oggetti sono intelligenti e quindi si possono collegare fra loro oggetti con oggetti o oggetti con persone. L'IoT si basa su due regole fondamentali, quelle che io chiamo i due comandamenti basilari dell'Internet delle cose e più in generale del mondo digitale. Il primo è che in ogni oggetto o in ogni essere ci sarà un microprocessore. Il secondo è che questo oggetto, questo essere intelligente, deve essere connesso in rete. Quindi il connubio dell'intelligenza e della connettività è basilare per l'Internet delle cose, ma in basilari più in generale per le applicazioni digitali. In effetti, tra poco, il mondo sarà popolato di infiniti oggetti intelligenti. E l'interazione tra esseri umani e il mondo fisico, il mondo fisico, quello che si chiama il cyberspazio, perché è un mondo fisico che è un mondo che è diventato intelligente, diventerà il paradigma del futuro. Ottenere informazioni dal mondo attraverso sistemi intelligenti, attraverso sistemi informatici, attraverso sistemi digitali è una delle caratteristiche verso cui ci avviamo. Pensate che nel 2025 le stime sono che avremo intorno a noi ogni persona circa mille dispositivi intelligenti che dialogheranno fra loro o dialogheranno con noi. Oggi ci sono tanti oggetti intelligenti che hanno a bordo un microprocessore, che hanno a bordo un computerino. Anche nella vita normale, nella vita quotidiana, io ho portato lì alcuni semplici esempi. Per esempio il bike sharing si basa su bicicletti intelligenti che hanno a bordo un dispositivo che si collega al GPS per sapere dove sono, che deve trasmettere con una centrale l'informazione di chi la utilizza o di quando non è utilizzata. Ma poi gli orologi intelligenti che fanno anche da cardiofrequenzimetri per chi corre, per esempio. Oppure gli orologi intelligenti che aiutano gli anziani e indicano quando per esempio l'anziano cade per trasmettere a distanza l'informazione. Ma anche le lavatrici che al giorno d'oggi sono controllabili mediante un cellulare. E poi ho portato lì una bottiglia di vino. Siamo in Italia e quindi è importante anche considerare questo. Bene, alcuni esperimenti fatti nel centro di ricerca che dirigo hanno creato il cosiddetto tappo intelligente. Cioè è un tappo che ha dentro un RFID, quindi un sistema di connessione, che permette di tracciare la bottiglia in tutto il suo percorso. E quindi questo mettere dell'intelligenza anche nel cibo è fondamentale per garantire la genuità del cibo e la sua tracciabilità. L'IoT oramai ha infiniti ambiti applicativi. Le macchine intelligenti, le macchine autonome, le città intelligenti, il controllo delle luci, la casa intelligente che gira le finestre in funzione di come picchia il sole. Ovviamente l'industria intelligente. Ma anche settori come l'agricoltura incominciano ad avere la necessità di avere dispositivi, sensori che riescono a individuare tutta una serie di parametri che sono utili a chi coltiva. quali sono le tecnologie che ci permettono di essere immersi in questo mondo digitale, in questo cyberspazio? Ma ovviamente i protocolli di comunicazione. Lì ne ho citati alcuni, quelli che collegano dispositivi vicini o quelli che collegano dispositivi lontani. La capacità di costruire un computer su un chip, di avere sensori di umidità, di temperatura, di CO2, ovviamente piccoli e collegati al sistema microprocessore. L'edge computing, quindi la rete, ma ne parleremo dopo. E infine le piattaforme che raccolgono tutti questi dati e fanno delle elaborazioni o dei modelli. Ma i microprocessori servono non solo a costruire oggetti intelligenti, ma servono anche a costruire grandi calcolatori. E vi è oggi una grande battaglia industriale per costruire potenti calcolatori. I cosiddetti super computer o chiamati anche high performance computer, quindi HPC. Sono computer essenziali in certi settori, dalla meteorologia, alla climatologia, alla fluidodinamica, allo studio di nuove sostanze chimiche o di nuovi farmaci, alla geologia, alle ricerche petrolifere. Questi grossi computer servono sostanzialmente a fare calcoli molto complessi, a risolvere matrici che hanno dimensioni un milione di righe per un milione di colonne. Ma quali sono oggi i più potenti super computer? Bene, il più potente super computer attualmente censito, e non parliamo del settore militare perché quello è tutto un altro film, è un calcolatore giapponese in un centro di calcolo che ha una potenza di 442 petaflop. Cosa vuol dire? Lo vedete scritto sotto. Sono 442 milioni di miliardi di moltiplicazioni al secondo. Una velocità incredibile, spaventosa. Pensate che è costituito da 7 milioni e 500 mila processori che lavorano tutti insieme. È una macchina di una dimensione significativa, qualche metro cubo, e pensate che consuma 30 megawatt, cioè più o meno come 15 freccia rossa. Anche i super computer sono strategici e qui l'Italia si comporta un po' meglio e anche l'Europa. Se guardiamo i primi 10 super computer nel mondo, quattro sono statunitensi, due sono cinesi, uno in Germania, uno in Giappone, uno in Italia e uno in Arabia Saudita. In Italia ce n'abbiamo uno all'ottavo posto che è il super computer dell'ENI. Vi ricordate quando dicevo che servono per le ricerche petrolifere. All'undicesimo posto c'è invece un calcolatore del Cineca, del centro universitario a Bologna. Bene, anche questo è strategico. Chi governa il mondo deve governare la capacità di calcolo. Se le capacità di calcolo sono importanti e fondamentali, non è meno importante la capacità di trasmissione, cioè le grandi reti. Anzi oggi diremmo che l'accesso della rete è spesso condizione indispensabile per sopravvivere nel mondo moderno e la pandemia ce l'ha insegnato. Oramai passiamo tutti i giorni di fronte a una videoconferenza e i ragazzi nel bene e nel male sono in DAD. La grande sfida è connettere il mondo, è connettere il mondo in velocità. Diverse sono le tecnologie a supporto di realizzare la connettività. La connettività può essere basata su reti cablate, cioè su collegamenti fissi o su collegamenti senza fili, i cosiddetti wireless. Nelle reti cablate le tecnologie oggi più diffuse sono quelle che vedete indicate lì, cioè la DSL che è il doppino telefonico tradizionale che però ha una capacità di circa 20 megabit al secondo. Poi c'è la fibra ottica, quella che si chiama FTTC, cioè la fibra fino al dispositivo fuori di casa nostra e poi dal dispositivo fuori di casa nostra arriva con un doppino di rame in casa. Ovviamente è un po' più veloce, ma non è velocissima perché c'è sempre questo accoppiamente col doppino di rame che abbassa la velocità. Però 200 megabit sono già per moltissima applicazione, per la quasi totalità delle applicazioni, sono già molto rilevanti. rilevanti. E poi c'è la fibra ottica che arriva direttamente in casa con una potenza di trasmissione che va dall'1 a 10 gigabit. E poi ci sono tutte le reti senza fili, il cosiddetto wireless, dalle reti senza fili vicine, quindi il bluetooth, per esempio quello con cui si collega il nostro telefonino alla macchina per farci parlare in auto, oppure il wifi, oppure le reti cellulari e le reti satellitari. E non possiamo non citare a questo punto il 5G, che è una tecnologia innovativa che è nata soprattutto con due obiettivi. Il primo obiettivo è connettere tanti elementi per chilometro quadrato, e lo vediamo qua. Cioè la capacità è quella di collegare un milione di dispositivi per chilometro quadrato e quindi è fondamentalmente orientata all'internet delle cose, a garantire la connettività e poi ha prestazioni, a parte la minore latenza, che vuol dire avere una risposta più veloce ai fenomeni, ma una velocità di trasmissione dati che è fino a 1 gigabit per singolo utente, oppure addirittura a 10 gigabit al secondo. E mi preme sottolineare anche quella cosa che ho indicato, e cioè che riduce anche i consumi, perché dobbiamo stare attenti a non sprecare troppa energia e queste tecnologie potrebbero essere energivore. Bene, parlato e finito questa disposizione sul 5G, mi sembra che possiamo affrontare un altro tema, cioè la potenza di calcolo e la connettività, sempre più spinta, ha fatto nascere nuove architetture informatiche. In primis il cloud computing e poi una sua variante, l'edge computing. Il cloud computing, o semplicemente come lo chiamiamo il cloud, è un sistema in cui le risorse hardware e i servizi software non stanno più in casa o in azienda, ma sono collegate in grandissimi centri di calcolo, accessibili in rete. Quindi noi spostiamo da casa nostra la potenza di calcolo e mediante la connettività la trasliamo in altri siti, in grandi siti. Chi gestisce questi centri, che normalmente vengono chiamati data center, condivide le risorse hardware e le risorse software tra più clienti, ottimizzando le prestazioni, una sorta di economia di scala. Però i dati sono sempre di più, i dati che provengono sono sempre di più ed ecco che è una variante del cloud computing e l'edge computing, in cui come vedete nella figura in basso non esiste un unico computer remoto connesso direttamente ai soggetti, agli utenti, ma invece esiste una serie di nodi intermedi di computer periferici che distribuiti spazialmente in diversi posti in modo tale che possano gestire localmente tutto il raccatto dei dati, che come abbiamo visto sono molti, e possono fare delle preelaborazioni per poi lasciare al computer centrale soltanto le elaborazioni più significative. Abbiamo parlato di tanti dati, in effetti le tecnologie digitali attuali permettono di produrre, elaborare, memorizzare, accedere a grandissime quantità di dati. Due mi sembrano gli elementi fondamentali che caratterizzano nella società digitale. La grande quantità di informazione, cioè di dati, che abbiamo a disposizione e che quotidianamente produciamo è la facilità con cui accediamo all'informazione stessa. Pensate solo se adesso volessimo sapere qual è la capitale del Mozambico. 50 anni fa avevamo bisogno di un atlante o dovevamo chiedere all'insegnante. Adesso prendiamo il telefonino, apriamo internet, apriamo Google e digitiamo capitale del Mozambico. Quindi l'accesso all'informazione è diventato infinitamente più facile. Ma è anche impressionante la grande quantità di dati che produciamo ogni giorno da parte di imprese, di pubbliche amministrazioni, di sensori, di smart device, ma anche dei singoli individui, di tutti noi. Oggi ogni giorno produciamo più informazione di quanta non se ne sia prodotta nei cinque secoli da Gutenberg, dall'invenzione della stampa a tutto la fine del Novecento. Ed è per questo che questo secolo è chiamato il secolo dei big data, dei grandi dati. Ma quanti dati produciamo? Quanti sono questi dati? Vi ho portato alcuni esempi. Oggi ogni giorno scambiamo 100 miliardi di email, un numero impressionante. Ogni giorno vengono postate su Facebook 700 milioni di fotografie ovviamente digitali. Una mail è un file, una fotografia è un file. Un aereo, per esempio un 787, un Boeing, genera ogni ora di volo 100 miliardi di byte. E il sistema di videosorveglianza di una grande città come Londra ogni minuto produce 1.5 terabyte, cioè 1.5 1500 miliardi di byte. Se volessimo capire quante informazioni produciamo in un anno, bene questo lo si può fare. Qualcuno ha fatto il conto. È l'equivalente di uno zeta byte. Uno zeta byte vuol dire 10 elevato a 21 byte. È già difficile da scrivere perché dovessi scrivere 1.1 e 21.0. Che pari a che cosa? Io quando cito questi numeri voglio sempre fare dei riferimenti concreti. Bene, io tendo sempre a rappresentare la quantità di informazione facendo riferimento a un libro, che è un tomo bello spesso, che è Guerra e Pace di Tolstoi. Bene, 10 elevato a 21, vai, cioè l'informazione generale creata e scambiata ogni anno nel mondo è equivalente a 323 miliardi di volumi di Guerra e Pace. Visto che noi siamo circa 7 miliardi di individui, è come se ogni individuo piccolo, medio, grande, giovane e vecchio producesse 40 coppie di Guerra e Pace. Ma siamo anche noi che produciamo tanti dati, perché i dispositivi che abbiamo ce lo permettono. Nella slide che in questo momento vi mostro ci sono due fotografie. Una sulla sinistra rappresenta via della conciliazione nel 2005, quando Papa Benedetto XVI, Ratzinger, fu eletto. Via della conciliazione è piena sia nella prima che nella seconda. Nella prima le impressioni, i ricordi, la memoria rimangono nella testa dei singoli. Nella seconda, nel 2013, le lezioni di Papa Francesco sono contenute in migliaia di fotografie, che sono file, sono dati digitali. Quindi noi abbiamo dal 2005 al 2013, guardando questa, la capacità di generare milioni, miliardi di dati. Il cellulare, come noi sappiamo, è diventato un po' la reale propagine della nostra memoria. Perché quando perdiamo o ci rubano un cellulare, perdere i dati è veramente un dramma. I dati sono oggi il nuovo petrolio dell'economia. Avere più dati vuol dire conoscere meglio i fenomeni, vuol dire fare modelli più precisi. Dal mondo finanziario, al marketing, all'industria, alla medicina, tutti hanno bisogno di informazione. Ecco, ma quello che in qualche modo va fatto presente è che i dati sono anche fondamentali per l'intelligenza artificiale. Oggi si parla di machine learning, di macchine che imparano. Ma per imparare bisogna avere dell'esperienza, bisogna avere dei dati. In effetti adesso vorrei soffermarmi su quest'ultima tecnologia, che è per l'appunto l'intelligenza artificiale. Tecnologia che da un lato tanto ci entusiasma, ma che genera anche molti timori e forse addirittura delle paure. La storia dell'uomo, soprattutto nell'ultimo secolo, è piena di tentativi di costruire delle macchine pensanti. Non sto qui a fare la storia. Cito soltanto un evento che è stato significativo e che forse può essere considerato come la nascita dell'intelligenza artificiale. Nel 1986 due ricercatori, come vedete lì, introdussero il concetto di calcolo parallelo nei processi cognitivi e sostanzialmente introdussero un modello, quindi un programma che emulava i processi mentali e simulava le reti neurali. Le capacità di calcolo di allora erano troppo deboli, per cui effettivamente non si riuscì, non prese piede, ma l'idea di avere qualche cosa che funzionasse come il nostro cervello, come l'insieme dei miliardi di neuroni e di sinapsi, era una sfida estremamente utile, estremamente interessante, che scoppiò poi negli anni 2000 perché la potenza di calcolo, sia hardware ma anche le architetture software, gli permisero di realizzare queste cose. Ma perché si parla di machine learning o di deep learning? Perché in effetti dovete tenere presente che una delle grandi rivoluzioni dell'intelligenza artificiale è quella di aver modificato la modalità con cui i programmi operano. Nel passato un programma era progettato per fare certe cose e faceva sempre quello, che quello fosse Word, un programma di videoscrittura o fosse un programma per gestire un magazzino o per gestire la contabilità, gestiva sempre quello. Era immutabile nel tempo. In effetti l'intelligenza artificiale ha introdotto la capacità dei programmi di evolversi, cioè di fare esperienza. E fare esperienza è uno degli elementi fondamentali del cervello umano. Tant'è vero che il grande etologo Conrad Lorenz diceva quello che vedete che imparare e creare esperienza sono gli elementi essenziali per la sopravvivenza e l'evoluzione delle specie animali. Ebbene oggi col machine learning i programmi imparano man mano che gli do dati e non solo imparano dai dati ma cambiano anche il loro modo di elaborare, di approcciare, di risolvere dei problemi. Oggi l'intelligenza artificiale è una tecnologia diffusa, qui che va dalle banche all'automazione industriale, all'industria automobilistica e quant'altro. In effetti bisogna dire che l'intelligenza artificiale è già tra noi e noi molte volte non ce ne accorgiamo. Vi porto tre esempi. Partiamo da quello più a destra. Il nostro telefonino, quando noi digitiamo un messaggio, ci propone a volte delle parole. La cosa a volte è anche fastidiosa. Ma quel proporre delle parole ce le propone in funzione di quello che è imparato in precedenza, perché le parole che noi adoperiamo più frequentemente ci vengono proposte. E come fa? C'è un algoritmo di intelligenza artificiale che sulla base dell'esperienza muta il modo di comportarsi, che in quel caso vuol dire di proporre. Ma anche quando versiamo un assegno, versiamo un assegno in quelle macchine che leggono gli assegni in modo automatico, la macchina legge la cifra, legge la firma. Quindi è una visione artificiale. E noi non ci stupiamo, lo facciamo. Ma lì c'è l'intelligenza artificiale. E poi mi è venuto in mente, facendo foto sul telefonino, che oramai quando tu fai una foto, soprattutto quando ci sono delle persone, viene fuori un riquadro intorno alla faccina. Che non noi lo diamo per scontato, ma pensate che fatica individuare una faccia e circondarla. Questa è l'intelligenza artificiale che abbiamo. che c'è. Ma noi in effetti ne vorremmo anche un'altra, che in parte non c'è, forse dietro l'angolo. Noi vorremmo in effetti una fabbrica completamente automatica, in cui l'uomo non faccia più fatica. Vorremmo avere un robot che ci fa la cena, che cucina, magari tenendo conto delle nostre malattie, delle nostre preferenze. Vorremmo un robot che aiuti i malati e gli anziani, e assista agli anziani. Ma vorremmo soprattutto nell'immaginifico collettivo delle macchine autonome. Quello è quello che speriamo, che vorremmo, ma che non c'è. Non c'è ancora. Qui vi ho portato una fotografia di una Tesla che, a guida autonoma, si schianta contro un'altra macchina. Quindi ci vuole un po' di attenzione. Attenzione però a che cosa? Attenzione che queste tecnologie sono in parte distanti, ma non distantissime. Vi porto alcuni dati. Nel 2029 la capacità di elaborazione di un singolo processore, quell'oggettino piccolino che vi ho fatto vedere, sarà pari alla capacità elaborativa di un cervello umano. E nel 2040 la capacità di elaborazione di tutti i computer supererà la capacità degli individui umani, delle specie pensanti. Questo lascia riflettere e ci deve far riflettere. Perché Marvin Minsky, uno dei padri dell'intelligenza artificiale, faceva un'affermazione che in qualche modo è un po' terrorizzante. L'uomo è uno scalino intermedio tra la scimmia e il computer, lasciando intendere che il computer è una specie evoluta rispetto a noi. Forse, concludendo, è la prima volta che un manufatto umano, un manufatto costruito dall'uomo rischia di mettere in dubbio la supremazia dell'uomo sul pianeta Terra. Queste tecnologie digitali, in particolare l'intelligenza artificiale, sono una grande opportunità, ma anche un grosso rischio. bisogna affrontare la tecnologia anche da un punto di vista etico e sociale, perché la tecnologia sia umana. E concludo dicendo che bisogna umanizzare la tecnologia. Questo è l'augurio e qui concludo. Grazie.